Ciao ragazzi, oggi sono qui per la seconda volta a registrare il video del catalogo di Campagna 10 perché? Perché semplicemente avevo già registrato il catalogo di Campagna 10 ma erroramente volevo togliere una parte che non mi piaceva e invece ho cancellato tutto il video facendo rimanere soltanto quella parte come vedete dal titolo del catalogo della copertina ci sono gli smalti a partire da 1,95€ adesso vi spiego come averli sempre allo stesso prezzo, 1,95€ abbiamo gli shampi della Naturals quelli da 250 ml, sia quelli 2 in 1 che quelli shampi classici allora, vediamo come poter avere questi smalti a soli, 1,95€ allora, per ogni prodotto ordinato vabbè, per ogni prodotto ordinato, da pagina tua a pagina 15 avete uno sconto di 6€ e quindi potete avere uno smalto a scelta tra tutti questi tra questi, questi e quelli metallici, quelli nuovi è 1,95€ vabbè, avete veramente l'imbarazzo della scelta ci sono i mascara colorati le matite Glimmer, ombretti, eyeliner super stock e matita rossetti, matite labbra cipria e fissatore per il make-up prodotti Amon Glow poi, a soli 9,95€ potete avere questo set per andare a completare la collezione saggia, quindi della borsa cioè il portafoglio e il portacellulare a soli 9,95€ acquistando per 15€ da questo catalogo poi abbiamo i profumi a 12,95€, questi 4 che vedete qui quindi Avon Femme, Infinity Moment, Elite Gold Dress e il Timeless, che già me ne hanno ordinato due a 12,95€ poi abbiamo anche quelli per uomo, c'è l'Infinity Moment l'Elite Gentleman, i Black Sue e il Full Speed Adrenaline sempre a 12,95€ poi abbiamo le creme tra New e a New Platinum, insomma tutti quelli da giorno a 16,95€ poi abbiamo prezzi veramente pazzi per quanto riguarda Advanced Technique abbiamo prodotti per la cura dei capelli a partire dai 3,95€ allora, a 3,95€ ci sono per esempio le due maschere queste per il colore, quelle invece 7 in 1 poi abbiamo l'altra maschera, questa Lolo Dargan che è veramente buonissima e il balsamo questo di qua per capelli con forfura poi abbiamo le collane a 7,95€ l'inno offerta che mi stra piace veramente profumi allora, a soli 13,95€ potete avere il Far Away Bello o il Far Away Hold più gli orecchini in questo veramente fantastico prezzo se no potete anche acquistare direttamente il profumo a 12,95€ allora, un'offerta molto molto conveniente è l'Avon Plus allora, l'Avon Plus in questa campagna per quanto riguarda i Today è il Together scusate a 39,95€ potete avere due Today e un Together veramente un ottimo prezzo poi abbiamo le matite queste di qua per le labbra che fanno sia da rossetto che da matita quindi per avere un look definito ho sui disegno 95 poi, vabbè, qui a partire dai 5,50€ mi fa male la mano non ci sono così tante offerte poi abbiamo della Color Trend i rossetti questi ritraibili a 3,50€ poi abbiamo le nuove eyeliner a 2,95€ veramente creme solution a partire dai 5,95€ ancora offerte pazze dell'estate allora, il kit della New questi di tutti i tipi Vitale, Reversalis, Patrium tutti a 15,95€ allora, all'interno troverete un detergente per il viso da 50 ml due creme una da giorno e una da notte da 15 ml e un contorno occhi in formato regolare mi ricordo che questo è un programma che potete utilizzare per 14 giorni e poi decidere se volete comprare i prodotti full site quindi se è 95,1€ quindi una cosa veramente conveniente secondo me a meno per chi non vuole comprare comunque i prodotti full site e vuole provare va bene sconto sull'area reversalista quella di 40 anni in su ve la consiglio se siete delle persone di 40 anni in su e cercate una crema ottima ve la consiglio ve la consiglio veramente perché è un'ottima crema infatti la mia cliente ha provato qualche 10 grampeoncini prima di comprarla ma io ho già che l'avevo detto che era buona ma lei vabbè allora ordinate la crema universalista e a soli 4€ ne avete un'altra quindi veramente conveniente poi ci sono queste creme dell'Herbal della Naturose 395 vi ricordo che in campagna 11 ci sarà una linea di detergenti per il viso quindi poi la ponchiera due prodotti di questa pagina se non sbaglio no 108 e 109 due prodotti che scegliete li pagherete a 7€ nella stanza di mia madre c'è un caldo da morire proprio che neanche il ventilatore fa niente completamente poi abbiamo i gioielli veramente belli che sembrano brutti dal catalogo però di presenza sono veramente carini io se avrei la possibilità di avere un bel po' di soldi li prenderei in anteprima i gioielli perché sono veramente belli si vabbè si è rotta la pagina poi non è che ci sono così tante offerte devo dire la verità sul catalogo di campagna 10 c'è questo completo letto 69€ notte stellata molto carino sconto del 65% su alcuni bijou che trovate qui prodotti adovanza tecnique styling a partire dai 3,50 dei 3,50 come il gel lo spray questo termoprotettivo che mi sta piacendo e la mousse per i ricci poi altro sconto vi ricordo che ci sono i simplici delicati a 2,95 quindi se vi interessano ordinati ci sono anche le salviettine e tutti i detergenti a 2,95 l'uno poi altra offertina a soli 4,50 potete avere i deodoranti Roulon uno lo potete acquistare a 2,95 invece due a 4,50 poi altra offerta che è veramente conveniente allora 5 prodotti a soli 9,95 quindi anziché 31,15 allora abbiamo un bubble butt al geranio da olietro un pettine per lo styling di Advanced Technique sempre Advanced Technique il sero per le punte secche una crema per i corpi fiori di ciliegio e un esfoliante per i piedi di Footworks e ciliegi alla ciliegia comunque veramente conveniente quindi ma anche se una prende due set vanno bene insomma da vendere si vendono facilmente poi abbiamo il siero di Advanced Technique acqua 3,50 spray profondi per il corpo a 3,50 prodotti per i piedi a partire da 2,50 bubble butt a 5,50 da un litro fragranza e stilo a 2,95 c'è anche far away talco a 2,95 poi abbiamo veramente un'offerta super ma super super il soft mask al set di tre prodotti cioè è un detolette detolante per il corpo e talco a soli 9,95 e niente ragazzi con questo concluso spero che le offerte vi siano piaciute anche se non ce n'è un gran chiede e niente vi saluto e alla prossima